Ce l'ho fatta, finalmente ho trovato la soluzione Magic Mask Con questo visore potrete utilizzare l'FPV su tutti i droni Sì, avete capito molto bene, su tutti i droni Che sia un drone della DJI, che sia un drone della Fimi Che sia un drone da 20€ Voi con questo visore potrete pilotarlo tranquillamente Ma come funziona? Andiamo a scoprirlo Andiamo subito in esterna e proviamo questo visore Ma prima di ogni cosa io vi lascio il link in descrizione del sito della Magic Mask Dove voi potrete acquistarlo E utilizzando il mio codice che trovate sotto nella descrizione Avrete un 15% di sconto sull'acquisto di questo visore Quindi andate a vederlo Ah beh, ovviamente iscrivetevi al canale qui sotto e accendete la campanella Molto importante per vedere una notifica che è uscito un mio video Molto importante Eccoci qua che siamo venuti a provare il nostro visore Con il nostro drone Vediamo come va Mettiamo subito all'opera 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 Missione compiuta Siamo riusciti a guidare il nostro drone Con il nostro FPV della Magic Mask E sono molto contento che Magic Mask mi abbia inviato questo visore Perché probabilmente se non me l'avesse inviato l'avrei comprato io Perché utilizzare il mio drone con finalmente un FPV che simula l'FPV chiaramente Che comunque ha un video molto molto chiaro in digitale che riflette lo schermo del nostro smartphone E quindi cosa si vuole di meglio Grazie Magic Mask e mi raccomando E quindi ci vediamo a casa Molto contento Ovviamente vi lascerò il sito della Magic Mask Così potrete acquistare questo prodotto e magari dargli una curiosata E come ho detto prima vi lascio il link in descrizione con il mio codice sconto Se volete acquistare questo visore Ovviamente questo visore fa molto molto di più Infatti voi potete utilizzarlo con varie applicazioni come guardare dei film Allora voi vi ritroverete subito questa scatola Troverete questa cosa Questi li vedremo in un prossimo video Andiamo da parte la scatola Eccolo qua Il nostro bellissimo visore Magic Mask Praticamente semplicemente senza annoiarvi E' un visore dove si apre con la cianiera Ha delle lenti molto speciali per poter vedere tutto lo schermo del nostro smartphone E non verrà diviso lo schermo dello smartphone Quindi non sarà un effetto 3D ma una realtà aumentata Ovviamente avremo il focus Qua sotto abbiamo un lock Una specie di chiusura per poter regolare il tutto Quindi quando voi avete il visore Semplicemente potete tirare Tirate e voi vi regolate in base al vostro occhio Quindi potrete vedere molto bene a fuoco le immagini che voi volete Quindi semplicemente voi inserite il telefono qua Il vostro smartphone State attenti ai pulsanti se no vi chiude tutto Noi semplicemente dobbiamo chiudere Chiudere tutto con le cerniere E indossarlo Abbiamo le sue stringhe per poter metterlo nel nostro capo E tutto è pronto Una bella stoffa molto solida, molto rigida Qua abbiamo la scopertura per la fotocamera Perché noi possiamo utilizzare questo visore per la realtà aumentata Di cui ne parleremo in un prossimo video Ah e per farmi vedere solo una cosa Qui abbiamo la realtà aumentata Possiamo praticamente entrare nel mondo della virtuale Della realtà aumentata Ma che cosa significa la realtà aumentata? Ancora Al prossimo video Quindi al prossimo video vedremo come utilizzare questo visore Ovviamente se non avete un drone cosa vi serve Ma ci sono tanti altri modi per cui utilizzare questo visore Quindi ci vediamo alla prossima Rimanete sintonizzati e ciao!